Un tizio va dal dottore e gli fa... Dottore, guardi, io non mi sento bene, il dottore non lo fa manco finire da parlare e subito gli dice, guarda, ormai ce la conoscemo da qualche anno. Allora, la prima cosa che devi fare è smettere di fumare. Dice tutto, ma perché secondo lei c'ho qualcosa che non va ai polmoni? No, no, ai polmoni no. Allora c'ho qualcosa che non va ai bronchi. No, nemmeno ai bronchi, dottore, allora che c'ho che non va? E che c'hai? C'hai che ogni volta che vieni qua mi bruci il tappeto.